Ben Bellardinelli capitano dell'agraria è andata male però si è stati vivi fino alla fine si è stata una bella partita dal primo tempo 2 a 0 però siamo rimasti siamo rimasti con la testa sapevamo che potevamo riprenderla e siamo stati bravi perché fino all'ultimo secondo l'abbiamo tutta vita anzi veramente ci avevamo avuto un paio d'occasione alla fine quindi questo ci fa bene sperare per il proseguo del torneo siamo stati anche bravi a sopprire un pochettino all'assenza del portiere oggi non avevamo e nonostante tutto l'abbiamo dovuta vivere fino alla fine quindi siamo fiduciosi abbiamo visto manovrare la squadra da dietro forse il vostro pregio più grande è stato quello di non mollare mai di crederci sempre fino alla fine io l'avevo detto a fine primo tempo ragazzi è la prima partita del torneo quindi non serve che perdiamo le distanze quindi l'abbiamo tenuta fino alla fine e sono contento perché i ragazzi comunque mi hanno seguito quindi con la testa l'abbiamo tenuta e peccato perché c'è rammarico perché veramente eravamo convinti di riprenderla però complimenti anche al quartiere mare perché comunque sono una buona squadra quindi tre partite di fronte le speranze siamo fiduciosi siamo fiduciosi anche perché oggi era un po la prova avevamo capito un pochettino a che punto stavamo siamo contenti quindi forza agraria non molliamo ciao 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 ciao